Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì. La presenza di un'area di alta pressione sull'Europa centro-settentrionale con voglia, aria fredda dalla Russia verso i Balcani e il nostro paese. Ci attendono quindi giornate fredde almeno fino a giovedì e inoltre anche molto variabili, soprattutto al sud. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, per questo lunedì vediamo nuvole soprattutto nelle regioni meridionali, nuvolosità comunque non particolarmente compatta, al centro-nord vedete non mancheranno invece proprio ampie zone di sereno, qualche nuvole in più a ridosso delle zone montuose del nord. Precipitazioni saranno soprattutto nelle regioni meridionali, a vedere degli acquazioni dei piovaschi, in realtà precipitazioni non particolarmente diffuse, però ripeto al sud a tempo molto variabile, nel resto d'Italia invece minor probabilità di precipitazioni. Quindi in definitiva ci attendono lunedì che al centro-nord avrà anche delle parziali schiarite, localmente pure piuttosto ampie, sul medio-adriatico un po' di variabilità, però ripeto al centro-nord situazione discreta anche se con temperature basse e un po' di vento. Il sud invece è tempo più variabile con degli acquazioni che per questo lunedì saranno più probabili tra Basilicata, Calabria e Sicilia, ma poi già vi preannuncio per martedì la neve sull'adriatico. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.